di fare un punto su una vicenda che è assolutamente rilevante. In questi mesi siamo riusciti a piegare la curva del contagio tra mille difficoltà che sono note chiaramente agli onorevoli senatori presenti. Grazie soprattutto ai comportamenti virtuosi delle italiane e degli italiani e grazie a misure molto dure assunte dal Governo nazionale e dalle nostre regioni. Ho già avuto modo di dire in quest'Aula che siamo fuori dalla tempesta ma non siamo ancora in un porto sicuro. E intanto la situazione internazionale, quella al di fuori dei confini del nostro Paese, è una situazione purtroppo sempre più complicata. Siamo arrivati ad oltre 17 milioni di casi con oltre un milione di casi in più a settimana e purtroppo una situazione neanche sotto controllo nella nostra Europa, in modo particolare nei Balcani, ma in me negli ultimi giorni ci sono segnali non positivi che vengono anche da importantissimi Paesi europei quali la Francia, la Spagna e la Germania. Dentro questo contesto sono stato costretto per difendere il nostro Paese a firmare ordinanze molto molto stringenti non solo per tutti i Paesi extraeuropei ed extra Schengen con l'obbligo di quarantena, ma anche nei confronti di due Paesi europei come Romania e Bulgaria che sono costretti alle stesse misure dei Paesi extraeuropei. Queste sono scelte dolorose che nessuno di noi fa a cuor leggero, ma sono scelte indispensabili per difendere il nostro Paese e per non vanificare i sacrifici enormi che le italiane e gli italiani hanno compiuto finora.